Amici e amici di Rossini TV, oggi siamo in studio con Michele Oradei, coordinatore del progetto di sviluppo del Monte Catria. Michele, che piacere finalmente averti qui con noi. È un piacere mio. Siamo molto contenti che sei sceso dalla tua montagna, di solito siamo noi a venirti a trovare, ma durante la stagione è quello il bello un po', no? È lì il posto bello. È vero, è vero. Però adesso era ora che venissi qui da noi a raccontarci un po' di questa stagione. Sì, ve l'avevo promesso, no? Quando voi siete venuti da me, ho detto io tornerò da voi a raccontarvi come è andata la stagione. Eccoci qua. E la domanda è quella, come è andata la stagione? Diciamolo ai telespettatori. Beh, la stagione è andata benissimo, come potete immaginare. Era partita molto male, perché purtroppo non abbiamo avuto la neve nel periodo importante che è quello delle vacanze di Natale, però dal 20 di gennaio per un mese e mezzo fino a domenica scorsa siamo stati aperti e abbiamo fatto una grande stagione. Contiamo 15.000 primi passaggi, cosa mai avvenuta nella nostra stazione, ma anche nelle stazioni a noi vicine, insomma. Diciamo che la montagna si è dimostrata, finalmente abbiamo avuto la prova, se ce n'era bisogno, che è un grande volano per le aree interne. Quindi stiamo parlando anche delle stazioni, non solo il Monte Catria, chiaramente i nostri amici del Nerone, il Carpegna, Monte Copiolo, che anche se è passato nell'Emilia Romagna, comunque è un'area interna anche loro, i nostri amici del Maceratese, perché fortunatamente nelle Marche abbiamo due poli che non si fanno concorrenza tra di loro e portano turisti nella nostra regione. Per cui la riflessione è proprio questa, cioè la montagna è un bel posto dove andare, è un posto che riempie l'anima, il cuore, fa stare bene, è dedicato a tutti gli appassionati e tutti quelli che vogliono andare in montagna finalmente hanno la possibilità di averla a portata vicinissima, perché è un altro punto, si mangia benissimo, ma non basta. Se fosse solo quello sarebbe, diciamo, l'idea di una specie di parco a tema dedicato agli appassionati di sci. Invece qui siamo un passo oltre, qui siamo a dare un vero e proprio volano di sviluppo a tutti i territori che sono collegati. Certo che sì, perché tenete conto che qual è stato il fattore determinante che ha portato tutte queste presenze, perché negli anni scorsi ce le sognavamo delle presenze del genere, il fattore determinante sono come sempre gli investimenti, cioè bisogna crederci, crederci sia da un punto di vista imprenditoriale, ma crederci anche da un punto di vista di investimenti. E noi su questo, negli ultimi anni, la Regione ha spinto abbastanza sull'acceleratore, fortunatamente, e ha dato dei finanziamenti per poter tenere conto che tutti gli impianti della Regione, quasi tutti, sono di proprietà pubblica, quindi comune e i comuni principalmente. Ci sono anche degli impianti privati, ma quelli più grandi sono tutti di proprietà pubblica. E quindi la Regione ha fatto in modo che questi impianti potessero essere rimodernati, quindi anche le strutture, le piste messe in sicurezza, perché era impensabile continuare, come per esempio nel nostro caso, ma ci sono anche altri casi, continuare con delle piste che erano state costruite 40 anni fa. Oggi ci sono dei standard di sicurezza da rispettare, cioè delle piste devono avere determinate larghezze, bisogna togliere le contropendenze per fare in modo che lo sciatore, oltre che divertirsi, sia sicuro della sua sciata. E quindi la Regione è andata in questa direzione. E poi sono arrivati gli investimenti privati, cioè di noi gestori, quindi basti pensare solo noi, ma anche i nostri amici del Montenerone, giù anche nel Maceratese, è uguale. Tutti i privati hanno investito soldi propri. Noi siamo arrivati in 8 anni, ormai 10 anni che abbiamo iniziato questo progetto, quasi ad un milione di investimenti propri, cioè di tasca nostra. Quindi vuol dire che prima ci crediamo noi, anche perché così diventi credibile. Cioè non puoi presentare un progetto a un ente pubblico e dire, ok, ma tu del tuo cosa ci metti? Esatto, esatto. Diventi credibile. E soprattutto ci metti quella persone che serve. E quindi gli investimenti l'hanno fatto da padrone, perché senza investimenti non si va più da nessuna parte. Cioè oggi l'utente è esigente, perché in giro trova di tutto. Quindi questi investimenti hanno fatto in modo che siamo passati da un turismo pendolare giornaliero a un turismo dei due o tre giorni, quindi sono rimasti nel nostro territorio. Infatti io ti raccontavo, prima di accendere le nostre telecamere, dei miei trascorsi, di quando da piccolo si partiva appunto da Pesaro con la macchina e si andava, ovviamente con la famiglia, e si andava a trascorrere qualche ora sulla neve, e alle volte addirittura senza impianti, e tu mi hai detto che è tutto cambiato, ma non solo è tutto cambiato da quell'epoca, è cambiato tanto negli ultimi anni. Questa è la particolarità. Cioè tutti quelli che in qualche modo hanno nel loro immaginario, nell'immaginario personale, l'idea dei nostri monti, in un certo modo, perché comunque ci sono andati qualche volta, anche in tempi più o meno recenti, sappiano che ci sono delle novità molto importanti proprio degli ultimi anni. E questo è quello che ha fatto sì che si possa dire che in conclusione di questa stagione la soddisfazione è tanta. Sì, la soddisfazione è tantissima, non tanta, perché chiaramente noi siamo gli imprenditori che sognano un po', no? E quindi dietro grandi progetti ci devono essere un po' di sogni, perché altrimenti non si portano avanti. Però a volte hai bisogno anche poi, non a volte, sempre poi hai bisogno della prova. E la prova oggi è tangibile, perché come ripeto, noi abbiamo avuto questo Tesplois, ma anche il Montenerone e anche i Sibillini, perché tra di noi ci conosciamo tutti, grazie a Dio, come dicevo, non siamo in concorrenza, quindi siamo amici, spesso ci scambiamo le idee, ci scambiamo anche le fatiche a volte, quando uno ha bisogno di qualcosa, perché è bellissimo il nostro ambiente, perché di fatto è un ambiente che è trainato da appassionati. Cioè noi siamo lì per passione, perché altrimenti non puoi stare in quell'ambiente se non hai la passione, perché lavori sotto la neve, sotto il vento, sotto il freddo, lavori 24 ore al giorno quando ti nevica, in condizioni disumane, quindi se non hai la passione non vai da nessuna parte. E quindi questo, come dicevo, è stato un grosso banco di prova che ha portato un risultato tangibile, cioè oggi partiamo con dei dati concreti. Se prima erano studi e chiaramente proiezioni, oggi sono realtà. Quindi se le cose sono fatte bene, la gente nel nostro territorio arriva. Tieni conto che quest'anno noi abbiamo avuto, nella nostra immaginazione, c'era di prendere la Romagna. Pensa che abbiamo avuto gente che ha soggiornato da noi per due o tre giorni da Bologna, da Ravenna, da Ferrara. Questo vuol dire aver tolto turismo ad altre regioni, perché quella gente lì andava a Sestola, andava a Corrona alle scale. E io poi ci ho parlato con queste persone, perché chiaramente è importante sapere cosa ne pensano, perché hanno scelto di venire a Montecatri da Bologna, o al Nerone per dire. Scelgono di venire da noi perché? Perché intanto siamo più economici, perché le grandi stazioni hanno dei prezzi quasi il doppio dei nostri. E due, al contrario di quello che uno può pensare, le nostre montagne sono molto appetibili dal punto di vista della viabilità. Cioè noi, praticamente la gente arriva da noi in autostrada e superstrada, e fa 10 km di fondo valle, al contrario di tutte le altre stazioni, che minimo devono fare tre quarti d'ora di macchina, arrampicati sulle montagne, catene e quant'altro. E quindi questo è un'altra cosa che aiuta a dare un'offerta più vicino al consumatore. E noi abbiamo, immagina Paolo, che abbiamo dovuto dire alla gente che non avevamo più posto per dormire, ma non noi, stiamo parlando dei bed and breakfast di Frontone, di Cagli, di Cantiano, siamo arrivati fino a Qualagna, a Fossombrone, a mandare la gente a dormire. Perché poi alla fine uno che va a dormire a Qualagna fa 10 minuti di macchina per venire da noi. È come quando te vai a sciare Madonna di Campiglio e stai a 20 km perché l'albergo costa di meno. Quindi chi è abituato ad andare in montagna non è un problema dormire ad Aqualagna. Quindi questa montagna è un grande volano per tutti i paesi che sono intorno, perché poi la gente che si ferma due o tre giorni vive il paese, come succede quando noi andiamo nelle Alpi, no? Quindi vive il paese, conosce le attività del paese, conosce quello che c'è nel paese, perché i nostri paesi sono pieni di borghi, i ristoranti, cioè l'enogastronomia, basti pensare a Cantiano, a tutto il comparto della birra, del cavallo, delle amarene di Cantiano, che sono un'eccellenza, no? Acqualagna con il museo del Tartufo, con la fiera del Tartufo. Ma poi diventa bello tutto il doposci, è un doposci diversissimo da quello a cui siamo abituati quando siamo in montagna, che è prevalentemente un doposci o da albergo o al massimo da passeggiata tra negozi. Questo diventa un doposci in una situazione dove la gente vive, per cui è un doposci attivo. Vivono il territorio, quindi tu immagina che vetrina che è per il nostro territorio, perché uno viene due o tre giorni, poi vede il territorio, è bellissimo e torna in altre circostanze, cioè torna magari per gli eventi importanti del nostro territorio. Per esempio viene pensato per Pergola e per Acqualagna la fiera del Tartufo, i bronzi dorati, cioè Cagli con il bellissimo, la torre, il soccorso coverto. Noi abbiamo delle eccellenze bellissime, Serra Sant'Abboglio con il monastero di Fontavellana, quindi spaziamo praticamente su tutti i cluster, no? Perché la regione Marche, come tu sai, si promuove con sei cluster, di cui noi ne abbiamo cinque eccellenze nei cluster, quindi l'enogastronomia. Quindi è un grosso volano per l'entroterra, non c'è niente da fare. Molto, molto, molto interessante. Agli incontentabili, tu adesso hai fatto un riferimento molto importante, secondo me, al discorso della raggiungibilità. Agli incontentabili però, a quelli che volessero dire, sì, ma le strade perché bisognerebbe, cosa puoi dire? Puoi fare qualche annuncio, c'è qualcosa in aria sul miglioramento della viabilità oppure diciamo che possiamo già ritenerci soddisfatti di quello che abbiamo? Beh, come dicevo, la nostra viabilità è ottima rispetto ad altre situazioni, rispetto ad altre situazioni soprattutto degli appennini, perché gli appennini, per esempio, tosco-emiliani o abruzzesi, ecco, l'Abruzzo è già un po' più avanti perché loro hanno una vocazione prettamente montana, cioè l'Abruzzo ci sono stazioni importanti, ma noi non è con l'Abruzzo che dobbiamo competere, noi dobbiamo competere con gli appennini tosco-emiliani e quindi siamo già avanti noi perché le nostre strade arrivano tutte in prossimità degli impianti. Nel caso del Monte Catria noi abbiamo la cabinovia che sale e quindi lasciano addirittura la macchina valle, quindi abbiamo l'arrocoamento con la cabinovia. Purtroppo, nota dolente, nella nostra provincia, come tu ben sai, con l'alluvione del 15 settembre, le strade, soprattutto d'accesso verso il Monte Catria, quello riguarda la nostra stazione, sono tutte purtroppo danneggiate. Abbiamo riaperto la strada che porta la cabinovia in tempi record per poter fare la stagione, però anche lì ci sono gli enti pubblici, già l'ANAS si è mossa, il Ministero si è mosso, quindi ci auguriamo che rispetto per dire a una catastrofe come potrebbe essere, come è stata quella del terremoto, le strade hanno probabilmente una corsia un po' più veloce di ricostruzione e quindi adesso un paio d'anni dovremmo tribolare per salire su al monte perché di fatto noi per salire su al Monte Catria adesso abbiamo solo la strada da Acquaviva che è bellissima, speriamo che la regione con l'ANAS l'asfalti per quest'estate e quindi anche una via d'accesso ce l'abbiamo. Bene, una stagione che è andata bene, avevi detto era partita un po' così perché non nevicava, poi finalmente le nevicate e soprattutto ricordiamo le temperature, perché poi sono quelle, la neve la deve fare ma poi la temperatura ce li deve aiutare a mantenerla, hanno aiutato ad andare avanti. C'è un'idea su come prolungare un'idea di stagione, un innevamento, l'innevamento artificiale, ci sono dei progetti oppure già così come siamo stiamo bene? No, così non stiamo bene, nel senso che c'è un problema importante da chiarire, perché è anche un po' un dibattito pubblico, innevamento sì, innevamento no. Innevamento assolutamente sì, ma per un motivo ben preciso, poi quando uno sostiene una teoria deve dare dei dati oggettivi. Perché sì l'innevamento? Perché l'innevamento innanzitutto permette di prolungare la stagione di almeno un mese, però qual è il problema? È che nelle montagne marchigiane, appenniniche in genere, non è che non nevica, la neve c'è, ma spesso non basta per poter aprire le piste. Quindi il nostro innevamento va visto in una maniera molto oculata, perché il discorso di innevamento sì, innevamento no, non è che il dubbio non è legittimo, è legittimo. Innevamento no, lo dico io per primo, se va visto come un innevamento da zero. Cioè noi nelle Marche non possiamo, togliamocelo dalla testa, di fare come fanno al nord, cioè di innevare la striscia bianca sul verde. Questo da noi non è possibile. Cioè puoi innevare il campo scuola per dire dove c'è, stiamo parlando di 100 metri, per far scivolare i bambini, ma la stazione è impossibile innevarla. Uno per i costi, due per l'energia, tre anche per il discorso dell'approvvigionamento, perché per fare la neve serve l'acqua. Quindi va visto però a integrazione. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che su quei 10-15 centimetri che da noi fa sempre a fine dicembre, ok, tu ci spari sopra 15-20 centimetri di neve artificiale, che è una neve molto più resistente perché è ricca di acqua, quindi quando fa il freddo poi gela e fa lo zoccolo di gelo sotto, questo ti permette di mischiare la neve naturale e artificiale e quindi questo fa in modo che inizi prima, perché altrimenti non devi aspettare la nevicata grossa dei 50 centimetri, ma a 50 ci arrivi tu con i 20 naturali e i 30 di artificiale, e in più ti dura molto di più. È molto più refrattaria anche alle scirocate che noi abbiamo, perché sotto c'è uno zoccolo di gelo, ok? Quindi l'innevamento, la regione sta già investendo, noi stessi abbiamo già fatto tutta la predisposizione, la dobbiamo finire, la finiremo adesso nei prossimi mesi, e andremo avanti probabilmente nei prossimi anni con la creazione di un bacino per raccogliere l'acqua. Nei Sibillini hanno già iniziato, c'è un progetto importantissimo da 4 milioni d'euro che va in appalto adesso per Castel Sant'Andrillo sul Nera, che sarebbe in Monte Prata, ne hanno fatto appena uno questi giorni, stanno portando avanti il progetto per Sarnano-Sassotetto, Bolognola uguale, quindi la regione sta già investendo oculatamente, chiaramente, facendo dei piccoli bacini, piccoli laghi che servono, e soprattutto, e anche cisterne interrate, chiaramente, perché l'acqua la stocchi in maniera diversa, no? Quindi con dei piccoli laghetti ad alta quota che sono anche fondamentali per un'altra cosa, anzi, in primo sono fondamentali per una riserva antincendio, perché sempre di più ci sono gli incendi e quindi tu c'hai subito l'acqua da poter spegnerli, e quindi questo va anche nella direzione del, un discorso del proteggere le nostre montagne, proteggere i nostri boschi, perché spesso si dice non bisogna tagliare qualche pianta, ok, ma non si fa poi caso quando c'è un incendio che vengono devastati ettari e ettari di bosco, da noi è successo sette ottoni fa il Tenetra, e si hanno dovuti andare a prendere l'acqua al lago Trasimeno con gli elicotteri. Se nel Tenetra c'era un piccolo bacino, ecco, te capivi che risparmiavi migliaia e migliaia di metri di ettari di bosco che sono andati distrutti. Quindi antincendio fondamentale. L'altro aspetto fondamentale è il sostentamento alla monticazione, perché è un'altra attività che da noi ancora c'è, e se tu la rendi sicura, cioè garantendo l'acqua per il bestiame, potrebbero anche, anzi sicuramente, nascono nuove attività, attività legate all'agricoltura, all'allevamento del bestiame, che poi producono prodotti chilometri zero e si innesca tutto quel circolo vizioso che è fondamentale. Poi d'inverno, quando non serve a tutte queste attività, è pronta per l'acqua, si usa per fare la neve, che tra le altre cose ha un aspetto anche molto importante per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, perché tenete conto, è un dato che è uscito questi giorni, è d'attualità questo argomento, no? Stoccare l'acqua con bacini. Si andrà verso quella direzione perché non abbiamo più l'acqua. Quindi stoccare l'acqua, cioè raccogliere l'acqua quando ce n'è tanta, ovvero da settembre, ottobre, fino a aprile, diciamo, è fondamentale. Uno perché evitiamo che venga dispersa. Teniamo conto che un dato ufficiale, quasi l'89-90% di acqua piovana viene dispersa. Cioè noi non la utilizziamo. Quindi stoccarla e tenerla lì per usarla quando serve è una cosa fondamentale. Quindi l'innevamento non va visto tanto come innevamento, ma, diciamo, con una fava prendiamo due o tre piccioni. Esatto. Sono belli questi discorsi che fai perché chiariscono molto bene alcuni aspetti e soprattutto ruotano intorno al punto focale perché altrimenti si rischia che il non sciatore dica vabbè, questo è un giocarello per chi scia, a parte che sarebbe comunque per molta gente. Però non basta. Qui stiamo parlando di qualcosa che va a impattare comunque sulla vita anche di chi non è direttamente coinvolto nel fatto di indossare degli scarponi o di salire su uno... Ma Paolo, guarda, te hai focalizzato, hai centrato, no? Perché tanto è di attualità, no? Ci sono opinioni diverse sull'opportunità o no o meno di fare questi investimenti. E per chiarire, è importante dare dei dati oggettivi. Perché poi, voglio dire, se tu metti sul tavolo dei dati oggettivi, quelli non sono interpretabili, no? Cioè interpretabile è una cosa se tu... Cioè gli dai la tua idea ma non ci sono dei dati. Poi, se diciamo che, voglio dire, una cosa è supportata dai dati, lì c'è poco da interpretare, no? In questo caso bisogna chiarire, è giusto fare chiarezza. Perché è anche giusto chi esprime la propria opinione sulla necessità o meno di fare questi investimenti ed è giusto anche confrontarsi. Però se poi dopo un progetto giusto, fatto con i piedi per terra, salvaguardando tutti gli aspetti, viene messo a confronto con dei dati oggettivi come questi, voglio dire, c'è più poco da discutere dopo, no? Certo, certo. E questo è molto importante. Così come è molto importante questa cosa che ci hai detto del non essere in concorrenza con le altre stazioni. È bellissimo. È molto bello questo fatto. Soprattutto perché ci fa pensare che in realtà non siete in concorrenza perché c'è tanta gente che ha voglia di andare in montagna. Per cui, anzi, benvengano le stazioni ben strutturate in modo da ripartire un po' l'afflusso. Perché se no c'è il rischio addirittura che ci sia troppa presenza per la capienza e per la potenzialità delle stazioni. Esatto. Un altro aspetto, no? Spesso si dice che le stazioni montane sotto una certa quota non hanno ragione di esistere, no? Anche questa è una leggenda metropolitana. Allora, dove chiudono le stazioni sotto una certa quota e dove fanno fatica? Dove vicino hanno stazioni più grandi. Cioè, infatti, tutte le stazioni che chiudono al 90% sono al nord, non sono negli appennini. Certo. Perché hanno la concorrenza. Perché hanno la concorrenza. Esatto. Hanno la concorrenza delle stazioni vicine e loro fanno fatica a fare gli investimenti e quindi sono costretti a chiudere. Ok? Perché l'altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione è la destagionalizzazione. Adesso ne parleremo. Finiamo questo concetto. Infatti, concludiamo andando in quella direzione lì. Cioè, come consolidiamo questo trend e come cominciamo a ragionare sul fatto che con una battuta, possiamo dire, la stagione si chiude ma il Catria non chiude mai? Il Catria non chiude mai, ma tutte le stazioni non dovrebbero chiudere mai. Noi siamo stati dei precursori. Già nel 2013-2014 abbiamo fatto il Kinderland Adventure Park per i bambini. e noi siamo aperti, credo, una delle poche stazioni, dico in Italia, aperti tutti i weekend di tutto l'anno. Chiaro che in periodi di bassa stagione siamo aperti solo la domenica, è normale, però siamo aperti tutto l'anno, meteo permettendo. Adesso abbiamo due settimane di ferie perché i ragazzi li abbiamo dovuti far riposare perché altrimenti hanno fatto H24 per 20 giorni, quindi abbiamo due settimane di ferie. e poi ripartiamo a Pasqua e noi siamo aperti sempre. Qual è il modo per passare, per fare l'ultimo salto, quello più importante di tutti? Cioè il primo è stato fatto, quello da un turismo giornaliero a un turismo dei 2-3 giorni. Il secondo è questo, fare il salto dalla stagionalità ai 365 giorni all'anno. Per farlo come bisogna fare? È semplice, investimenti. Investimenti e investimenti, sia da parte del pubblico, come abbiamo fatto fino ad ora, ma soprattutto per l'estate è più, ahimè dico, una competenza privata, perché il pubblico interviene sulle strutture, invece i servizi, le attrattive, queste cose qui è il privato che ci deve credere. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare in modo che questi due mesi, un mese e mezzo d'inverno, intanto diventano due e mezzo con l'innevamento artificiale. E quello sappiamo cosa fare e ci siamo già mossi in quella direzione. Per l'estate invece bisogna che tutti i comprensori, se ne sono accorti anche al nord, avrei visto, ecco, ci lavorano perché anche loro non gli basta più l'inverno, capito? Ma è giusto che sia così, perché anche l'estate ha avuto un boom molto più intenso dell'inverno, anche nelle montagne del nord. Quindi dove bisogna lavorare? In cose semplici, da un punto di vista ambientale sostenibili, perché sono bike park, quindi tu fai dei piccoli sentieri, fai dei sentieri in mezzo al bosco senza rovinare niente, i sentieri di trekking, investire sulle attività ludiche per le famiglie, quindi vuol dire, noi l'abbiamo già fatto, ma piccolino bisogna incrementarlo, quindi vuol dire un kinderland estivo, vuol dire un parco avventura, dove i bambini possono stare, ok? Perché ti faccio un esempio, no? Cioè tu potrei avere il mare bello quanto vuoi, ma metti per dire Frafano e Pesaro, porti tuo figlio, pianti l'ombrellone, Frafano e Pesaro dove intorno non è niente, ti ci viene una volta, ti ci viene due volte, la terza volta ti dice, babbo andiamo dall'altra parte, no? Cerchiamo insomma. Esatto. Questo è lo stesso discorso, cioè oggi il turista è esigente, vuol fare una vacanza esperienziale, quindi vuol provare emozioni nuove, ok? E tu bisogna che gliele dai, se vuoi che viene. Quindi, non per ultimo il glamping, noi sono tre anni già che ce l'abbiamo, il glamping come tu ben sai, il turismo è un campeggio però di lusso, tra virgolette, cioè una tenda confortevole, dove tu gli dai le lenzuola, dove gli dai la wifi, dove gli dai il bagno, gli dai i servizi e gli dai anche il mangiare. Noi lo abbiamo fatto dentro il bosco, vicino al rifugio, e quindi la gente dorme in tenda in mezzo al bosco, quindi fa un'avventura bellissima, però ha i servizi, ha la certezza che se succede qualcosa per loro, ma soprattutto per i loro figli, di essere soccorsa, è qui che fa la differenza, capito? Perché la gente viene? Perché hai cominciato a dare quei servizi che sono indispensabili. Riuscite a far arrivare questo messaggio anche ai destinatari lontani o in questo momento c'è anche la necessità di consolidare un po' il discorso della comunicazione e della promozione? Beh, la comunicazione è fondamentale, è fondamentale. Tieni conto che da noi, le Marche per eccellenza già è una regione molto frequentata dagli stranieri e noi d'estate ne abbiamo tantissimi. È chiaro che, come mi piace sempre sottolineare a me, la miglior comunicazione da mondo in mondo è il passaparola. Anzi, se tu comunichi una cosa che non hai, sei tagliato. Non a caso noi fino ad oggi non abbiamo comunicato niente perché aspettavamo appunto da noi tutta questa offerta che sono i lavori conclusi negli ultimi due o tre anni. Sono iniziati dieci anni fa ma sono conclusi negli ultimi tre anni. E quindi stiamo, diciamo, cominciando a promuovere adesso perché abbiamo delle cose da promuovere. Poi la gente quando arriva l'effetto deve essere quello di dire cavolo non me l'aspettavo, da noi succede sempre così. Cioè, quest'inverno è successo questo, la gente è entusiasta delle piste, entusiasta degli impianti, perché a parte i problemi che purtroppo quelli per ora sono così, cioè della cabinovia che quando tu hai tante persone e noi abbiamo una cabina via di posto inevitabilmente si forma la fila perché non è che su una cabina da due possiamo caricare quattro persone. Quindi a parte il tappo iniziale della cabinovia e finale quando torni giù, però su c'è un mondo che è uno spettacolo perché le seggiovie, triposto e quadriposto, le piste messe in sicurezza, allargate, tu non trovi coda nelle piste, non trovi coda agli impianti, quindi il mangiare, il rifugio è attrezzato per andare a mangiare a molta gente e questo fa sì che la promozione la faccia chi è stato da noi. Dimmi la verità, la sogni una telecabina gancio rapido a 12 posti? Sì, la sogniamo, ma anche a 6, capito? Ma non è un risultato impossibile da raggiungere, non è un risultato impossibile, non a caso adesso la regione ne stanno già facendo una a Frontignano, ne faranno una a Monte Piselli, quindi non è un obiettivo impossibile da raggiungere, assolutamente, anche perché noi per esempio con le seggiovie siamo stati oculati alla regione e al comune gli abbiamo fatto acquistare impianti usati, perché per noi vanno benissimo, cioè un impianto che smontano a Madonna di Campiglio perché da 8 posti lo fanno a 20, e 8 posti per noi va benissimo, quindi, e costa la metà, quindi anche quando si parla di queste cose bisogna dire che la regione è stata molto oculata, cioè su nostro suggerimento, perché prima non si faceva. Michele, stiamo parlando di montagna, noi però siamo al mare, allora tutto questo ragionamento può essere integrato anche con una forma di proposta che leghi il mare e la montagna? È fondamentale, Paolo, è fondamentale, ma il mare si è già accorto, noi siamo ormai da 2-3 anni contattati in continuazione dall'associazione albergatori di Pesaro, di Fano, di Senigaglia, perché siamo vicini e il mare si è accorto che senza montagna non va da nessuna parte, anzi, è il valore aggiunto perché oggi non esiste più la vacanza dei 10 giorni che vengono al mare sotto l'ombrellone e la famiglia sta lì, non esiste più. Oggi la gente vuole fare un turismo esperienziale, di 10 giorni che stai in vacanza almeno 3 o 4 ne vuole passare girando il territorio dove va in vacanza, ok? E quindi questo per il mare è fondamentale, ma tu ti rendi conto che potenza che noi abbiamo, cioè abbiamo montagne a 3 quarti d'ora di strada, a frontone sono mezz'ora di macchina, di strada, di ritta, ok? Quindi noi abbiamo praterie davanti, abbiamo praterie immense da cavalcare e se ne sono accorti anche tutti gli operatori turistici del mare. Cioè tu pensi che io sono anche il presidente del consorzio Terra del Catria, che andiamo, promuoviamo il nostro territorio nelle fiere insieme alla regione, nelle fiere alla BIT, al TTG e quando diciamo ai stakeholder che vengono perché quelle sono fiere dedicate ai tour operator, Quando, anche stranieri, quando diciamo che nell'arco di 50 chilometri abbiamo il mare, quindi vuol dire anche il conero, non solo il nostro mare, abbiamo il mare, abbiamo i sei cluster della regione Marche, che sono il mare, genius for Marche che sono la cultura, cioè quindi Rossini, non a caso Pesaro, città della cultura, il teatro Rossini, ma Urbino, tutti i teatri che abbiamo nell'entroterra, il teatro bellissimo di Cagli, il soccorso coverto con la torre di Cagli che è una cosa bellissima, i bronzi rovati di Pergola, abbiamo tutte queste cose, poi abbiamo antichi borghi e dolci corline, possiamo rinfasciare chi vogliamo con tutti i borghi dei nostri paesini, parchi e natura attiva appunto, c'è la montagna, ma un altro cluster importantissimo che non ne abbiamo parlato, spiritualità e meditazione, cioè il monastero di Fonte Avellana è una roba bellissima, dove gestito da dei frati che sono bravissimi, perché adesso il monastero, non so se voi lo sapete, si può anche dormire, si può mangiare, dormire, quindi abbiamo un'offerta che è impressionante, cioè nessuno ha l'offerta che ha la regione Marche, capisci? Infatti ti dico che quando andiamo alle fiere non ci credono, cioè pensano che li prendiamo in giro, cioè siamo i soliti italiani che esageriamo, poi dopo quando gli spiatelliamo sotto le foto, i video di quello che abbiamo, lì si apre un mondo, però c'è un problema, che ancora noi non siamo stati bravi e ancora non lo siamo a integrarci, a fare dei pacchetti, a promuovere in maniera sinergica questa cosa. In poche parole abbiamo una Ferrari, ma la guidiamo ancora, dico sempre, come una panda, come una golf, diciamo, via dai, perché non siamo proprio tutti del diavolo, ma abbiamo davanti una prateria. Questo è un bene, quindi non è una critica, cioè è solo spronarci e a imparare a guidare la Ferrari perché va più forte. Certo, vuol dire avere margini di miglioramento, poter sfruttare al meglio, questa bellissima possibilità che abbiamo, per non parlare poi del fatto che sciare vedendo il mare è una cosa di esperienza unica. Bravissimo. Michele, ti sento molto soddisfatto, molto carico e molto soddisfatto e questa cosa mi fa molto, molto piacere. Come concludiamo? Eh, ma concludiamo che, cosa ti posso dire Paolo? Concludiamo che io dico sempre che questa cosa, tutte queste cose che abbiamo parlato, qual è l'aspetto più positivo di questa cosa? E che questo fa sì che i giovani possono sperare in un futuro nel loro territorio. Cosa che non... Io mi sento ancora giovane però purtroppo sono quasi tuo conetaneo e noi il tempo passa ancora possiamo fare tanto ce la caviamo esatto però cosa dico a un giovane di vent'anni a mio figlio io un figlio di 16 anni e mezzo 17 dico che è possibile realizzare i propri sogni nel proprio territorio è chiaro che bisogna avere la testa bisogna fare dei progetti oculati ma soprattutto bisogna crederci bisogna avere anche un po' il sogno bisogna avere come dici tu questo gas perché l'imprenditore se non c'ha il gas i nostri giovani non possono essere lasciati solo nella prospettiva di andare a lavorare in un tra virgolette che serve anche quello ma in un posto fisso devono anche pensare chi ha voglia di chi ha più gas ha voglia di deve avere la possibilità di farlo non deve andare via per forza dal nostro territorio e questo è importantissimo come si fa a fare questo bisogna continuare appunto con gli investimenti uno dal punto di vista delle amministrazioni e qui concludo cioè come si fa a dare speranza ai nostri giovani continuare a investire allora i nostri giovani devono essere supportati dalle amministrazioni io dico che i sindaci delle amministrazioni dell'area interna devono avere una marcia in più degli altri perché già siamo svantaggiati perché siamo in aree dove ci sono più problematiche però sono fortunatamente i nostri sindaci sono quasi tutti giovani quindi ce l'hanno già un po' di questo sprint ma devono continuare e a mio avviso devono anche osare un pochino di più cioè io dico che un sindaco di un comune dell'area interna non si può limitare a fare la normale amministrazione cioè il marciapiede la scuola l'asfalto cioè da noi questa cosa qui non funziona da noi serve un sindaco che pensi che non si può stare fermi cioè la regola fondamentale è che oggi se tu stai fermo se tu non fai niente vuol dire che stai fermo e se stai fermo mentre tutti gli altri vanno avanti vuol dire andare indietro cioè questa è una regola salvo e santa e questo vale per l'amministrazione ai giovani dico fate progetti importanti giusti ok progetti non costosi per forza perché per aprire un bed and breakfast un piccolo negozio artigianato aprire un'attività come ti dicevo prima anche di allevamento del bestiame di prodotti a chilometro zero non è che servano centinaia di migliaia di euro con centomila euro già si parte centomila euro tieni conto che oggi i nostri giovani sono fortunari al contrario nostro che oggi grazie alla regione con i soldi che danno ai GAL che sono i gruppi di azione locale che gestiscono i finanziamenti della regione il PNRR di questi di questi soldi a volte arrivano fino al 70% i contributi ok quindi non è che parliamo che un giovane si deve indebitare per centinaia di miliardi di euro quindi hanno anche una grossa prospettiva ed è questo il momento di farlo devono sognare anche un po' perché dietro i grandi progetti io il Montecatre di oggi me lo sono sognato ok dietro i grandi progetti ci sono sempre dei sogni e ai giovani dico dovete sognare perché chi sogna io dico sempre arriva prima di chi pensa bellissima conclusione ma hai fatto venire voglia anche a me mi torna la voglia di essere giovane soprattutto per poter avere questo tipo di approccio che io continuo ad avere anche adesso l'etamia e che mi piace ritrovare anche in quelli che in realtà sei molto più giovane di me ma comunque anche in quelli molto lontani però diciamo più giovani hanno fatto già parecchie cose insomma questo è il senso bene siamo certi di aver fatto una bella cosa nel raccontare con Michele Oradei del Catria questa realtà importante delle montagne e delle marche io ci tengo perché come ti dicevo prima non siamo in concorrenza fra di noi e questa è una cosa bellissima perché ci aiutiamo e la montagna non è solo Monte Catria sono tutte le altre montagne che fanno vivere le aree interne bene bene giusta precisazione sono contento di essere stato corretto in questo modo da te perché è opportuno è necessario sottolinearlo ti ringrazio per essere stato qui con noi invito tutti i nostri telespettatori ad andare a scoprirle queste montagne allora questa bella struttura poi abbiamo questo appennino che insomma sembra fatta apposta per essere vicino al mare ma allo stesso tempo per permetterci di vedere le cose da un'altra prospettiva da un altro punto di vista invitando tutti a continuare naturalmente come sempre a seguire tutte le trasmissioni di Rossini TV che vi informano anche su queste cose ringrazio ancora Michele ci vediamo comunque noi sul Catria certo certo